Sono iniziati oggi i lavori per la realizzazione del nuovo tecnopolo di Bologna nell'ex manifattura tabacchi di via Stalingrado. La nuova struttura potrà ospitare fino a mille ricercatori e rappresenterà il più grande centro della rete per l'alta tecnologia dell'Emilia Romagna. I lavori che cominciano oggi, noi contiamo che entro il 2013 tutto deve essere concluso. Il complesso di via Stalingrado, passato dalla British American Tobacco alla regione, è stato realizzato tra gli anni 50 e 60 dopo l'abbandono della sede di via Rivareno, demolita dai bombardamenti. I primi edifici ad essere demoliti per lasciare posto il nuovo tecnopolo saranno due edifici di proprietà del comune realizzati negli anni 40 nell'ambito delle cosiddette case popolarissime destinate alle famiglie più povere della città. Credo che questa sia un'operazione molto interessante sia per quella progettualità relativa all'innovazione che sta a cuore davvero ai vari livelli di governo del nostro territorio ma anche proprio per un ripristino degli assetti di questa parte della città. Il tecnopolo ospiterà enti e società di ricerca e un centro per la comunicazione scientifica.